C'è un trend che tende verso il positivo ed è quello che emerge dai monitoraggi di Goletta Verde in Puglia, ma di certo la situazione non è ancora rassicurante. 14 punti risultati fuori legge rispetto ai 31 monitorati lungo gli 865 chilometri di costa, nei quali è stata evidenziata una carica batterica al di sopra dei valori consentiti dalla legge. Acque inquinate da scarichi non depurate adeguatamente che contribuiscono non solo ad inquinare il fiume e il mare, ma che mettono in pericolo anche la stessa salute dei cittadini. E' questa la fotografia scattata dalla celebre campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane, realizzata anche grazie al contributo del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, che in questi giorni sta facendo tappa in Puglia. I numeri evidenziano una situazione in chiaro scuro, afferma Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia. Da una parte sono state avviate le procedure per il potenziamento dei depuratori, sebbene sia ancora in attesa dell'avvio dei lavori, dall'altra insistono situazioni in cui i depuratori scaricano nel sottosuolo, sono sottoposti a procedimento penale o ancora sono oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea. Non da sottovalutare anche il caso del Comune di Porto Cesario, senza fogna e depurazione, dice. Chiediamo allora alla Regione di garantire l'attuazione di interventi risolutivi ed immediati per far fronte ai problemi della depurazione, utilizzando efficacemente le risorse economiche stanziate e disponibili. Un ruolo importante, però, afferma, deve essere anche quello dei sindaci delle città e dei piccoli centri pugliesi sulla costa come nell'entroterra. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Sono 187 i depuratori a servizio degli agglomerati pugliesi. Su questi continuano ad insistere problemi di funzionamento, criticità e situazioni irrisolte che in alcuni casi rendono inefficace la depurazione dei reflui. Attualmente sono 12 gli impianti che continuano a scaricare nel sottosuolo, con grave rischio di inquinamento delle falde acquifere. Superamenti rispetto ai limiti tabellari sono stati riscontrati, almeno per un parametro monitorato, in 39 depuratori, tra cui Bari-Ovest, Bitonto, Corato, Molfetta, Ruvo, Andrea, Barletta, Trani, Trinitapoli, Cerignola, Foggia, Manfredonia, Sansevero. A fronte di queste criticità sono state avviate le procedure di potenziamento su ben 47 depuratori. Restano però 33 gli impianti sottoposti a procedimento penale. E la Puglia, come si evince dal dossier Mare Monstrum 2014 di Lega Ambiente, è la terza regione a livello nazionale per numero di illeciti a danno del mare riscontrati nel 2013, con 1.692 infrazioni accertate. Dal quadro dettagliato dei monitoraggi di Goletta Verde nelle province pugliesi risulta dunque che, su quattro punti analizzati in provincia di Bari, uno è risultato fortemente inquinato. Situazione più critica nel Brindisino, dove tre dei cinque campionamenti hanno dato un giudizio di fortemente inquinato, criticità riscontrate anche nella provincia di Barletta, Andri e Trani, dove degli otto campionamenti effettuati, cinque sono risultati fuori legge.